Ciao ragazzi sono TheTipicalPlayer, sono tornato in questo nuovo video, hanno fatto l'aggiornamento, c'è qualche piccolo aggiornamento che hanno velocizzato il nostro cazzutissimo PES Club Manager Ci sono i saldi quindi faremo un opening pack da 5, quindi 5 giocatori come discount, ho ottenuto un po' di soldi e io ritornerò quando sarò in divisione 1 qualcosa però dilettante scusate perché devo passare perché sono sempre fermo qua Però intanto visto che avevo questa mega offerta direi perché non approfittarci ad aprire questi 5 opening pack, questi pacchetti che vedremo chi troveremo, insomma l'italiano è buttato Quindi partiamo subito con un opening pack da 5, il primo è Fernandez va bene, poi premiamo come secondo siamo riusciti a trovare Javi Garcia del Zenit Pesatroburgo, niente male, niente male, continuiamo con un altro boia che... Anzi... RAKITIC! Murda sì! Poi 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 poi... Burdisso e per finire la chicca Shukle Ilana Ok va bene, va bene Qua sono quelli che siamo riusciti a trovare, sicuramente mettiamo subito RAKITIC nella nostra squadra, adesso faccio qualche modifica e poi vi faccio sapere Quindi ragazzi siamo riusciti a tirare fuori questa squadra con Griezmann laterale, Griezmann nei mar laterali, Diego Milito centrale come sostituzione tendiamo sempre Falcao perché non si sa mai Felipe Anderson lo tengo, non si sa, riserva proprio di emergenza, abbiamo messo Gavrilovic e Burdisso come difensori di scorta per sostituire Glick e David Luiz oppure anche i terzini sinistro e destro Centrocattista abbiamo Erviti che sostituiremo con Sturaro nel caso si stanchi, poi c'è Alex e Rakitic che verranno sostituiti con Brienza e Jalicic successivamente perché in attacco non li voglio E' cominciata questa dannatissima partita, cominciamo subito facendo il culo un po' a tutti e basta, non c'è niente da fare, hanno implementato, ho fatto alcune modifiche, la velocità è questa Quando non registro la velocità di gioco è molto ma molto più, possiamo dire, incazzata, ma abbiamo visto subito che partono a busso ma non ce la fanno perché dove cazzo voi che vanno Passaggio subito per Erviti che spassa per Rakitic, Rakitic ha il controllo palla, ha un buon controllo palla Rakitic, passaggio per Alex, buono su Sulla fascia, vede Neymar, Neymar avanza, Neymar centralmente, passa per Diego Milito, troppo lungo il passaggio però buona intuizione di Neymar, incredibile Diego Milito si deve ancora abituare in questa squadra, si vede che deve familiarizzare J-Bamba, necessità reggaet Bambale, ok, prova a passare ma c'è Glick, una potenza, poi c'è Alex, Alex che prova il passaggio ma non ci riesce, non ha ancora quel tocco Rodriguez per Alex, Alex passa per Neymar, Neymar è chiuso, deve fare il retropassaggio ad Alex e il retropassaggio a Rodriguez Neymar, Neymar prova la finta, cross in mezzo, Rakitic subito di testa, staccata male però, cioè in realtà l'ha beccata benissimo però purtroppo la conclusione non è buona Teobau, Teobau in porta, suppongo che si legga, si legga così Romandro Rodriguez per Neymar, Neymar, Diego Milito di testa, ok Griezmann, sul lato destro Griezmann che sarebbe una punta centrale ma noi lo teniamo su quel lato perché si vede, Griezmann vede Diego Milito Diego Milito si gira, difesa, Neymar spuca da nulla, rete, 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 Neymar, incula tutti e fa gol, ho scutato quindi Rivediamo questa azione, incredibile, Diego Milito prova a passare, Neymar spuca da dietro, passaggio rete, Neymar che visione, che giocatore I Bad Burger sono in vantaggio come sempre perché noi non perdiamo mai, ricordiamocelo Per Neymar, sempre per quel lato, ma il passaggio è un po' troppo lungo, non riesce a raggiungere, purtroppo Neymar Ci va di cattiveria Alex, che dice, non è andato il passaggio, ci riprovo allora, Neymar, Neymar avanza, Neymar sul lato sinistro, sulla fascia sinistra, Neymar avanza in centro, non la passa nessuno Che cazzo ha fatto Griezmann? Cosa cazzo è successo a Griezmann? Ok Interessante, calcio d'angolo, possibilità per i Bad Burger, possibilità cross in centro, troppo centrale, il portiere lo prende con una presa sicura Lo vede Alex, sempre per Neymar, ci prova sempre Si vede che c'è intesa fra di loro, ma purtroppo Alex non ha quei piedi, non ha dei piedi eccellenti Per Diego Milito, che lo vede, dovrebbe vedere lo scatto di Griezmann, appunto l'ha visto Griezmann si gira, passala, passala e cross in mezzo Vuole perdere tempo, incredibile parata Neymar, che azione che ha fatto, J Bamba Neymar, Neymar, Neymar avanza, incredibile per Alex, Alex lo vede in centro Alex non sei un giocatore decente, devo cambiarti, non mi piace Per me devo provare con Jalicic, David Luiz, cosa cazzo fa, bravissimo, ecco Ma cosa sta succedendo, 12 in scivolata, 12 persone, Rakitic, guardate il controllo di Rakitic Ragazzi, è troppo avanti, dai che hai visto, no, non l'hai visto ancora Neymar Dai Rakitic, che c'hai una buona visione di gioco, come gioca Rakitic ragazzi Che acquisto che abbiamo fatto, nuovo nuovo, fresco fresco Per Alex, Alex prova di notare Neymar, no, invece no, ferma tutti Passaggio per Rakitic, Rakitic ti stai un'istrarrata Rakitic, nuovo acquisto, nuova rete, ho smutato di nuovo, luridissima cambia Finisce il primo tempo, cambieremo Alex e mettiamo Falcao per vedere cosa cambia in questa fantastica partita E forse qualcun altro Purtroppo Rakitic ha dovuto abbandonare il gioco perché era veramente stanco e non riusciva più a proseguire Falcao, abbiamo messo Jalicic, Brienza e Falcao L'attacco, sempre in attacco, noi vogliamo vincere questa partita Mentre gli altri giocatori sono pieni di energia Ovviamente tutto si concentra in centrocampo con quella formazione Il centrocampista che forse nella prossima partita non giocherà perché daremo posto a Sturaro Un grande giocatore che l'ho visto giocare due volte, veramente fantastica David Luiz Klerk Jalicic Jalicic Griezmann Mamma mia le finte di Griezmann Griezmann non ha paura Jalicic Per Falcao Falcao prova il tiro Purtroppo la palla è stata suppostata e non ho avuto una buona conclusione Niente da fare Si sperava in un calcio d'angolo ma niente Rinvio Luga di Debao Keita Keita Ancora Keita Griezmann Griezmann l'attacco Griezmann vuole la palla La vuole David Luiz Glick David Luiz Per Klerk Griezmann Griezmann Jalicic Jalicic avanza Falcao 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 tutto solo Prova il tiro Che bomba di Falcao Rodriguez Cross in centro Guardate la staccata di Griezmann C'è Brienza Brienza che prova il tiro Di sinistro Ma non Purtroppo con una gran Conclusione Quanto bella Questa cosa Guarda 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 Okay Basta Debao Tiro per il lungo Tiro lungo Lombard Glick Sempre Liglic Non fa passare nessuno Il centrocampista posizionato davanti alla difesa Non si sa Brienza Cosa abbia avuto intenzione di fare Brienza Neymar come lo vede Liberissimo Per Brienza che prova il tiro Ma il portiere c'è Il portiere c'è E' fermo Immobile E para Rodriguez Dall'altro lato La partita si fa più intensa La vuole vincere il Bad Burger Niente da fare Nessuno riesce a Non ci pare Contropiede Sono ripartiti Di Arra David Luiz David Luiz contro Di Arra David Luiz Due contro uno Due contro due E dall'altro lato è sbucato un suo amico David Luiz David Luiz riesce a prendere la palla Salvataggio per il Bad Burger Grande difensore David Luiz Erviti Fa ripartire tutto Come al solito E Alencic Va piano Fa salire pian pianino la squadra Per Griezmann Griezmann che vede il movimento di Falcao Non l'ha visto Troppo tardi Keita riesce a intervenire Falcao Erviti Niente Keita la palla Di Arra Per Di Arra Ma Brienza riesce a recuperare Passaggio per David Luiz Clark Erviti Sempre lui Sempre lui davanti alla difesa Brienza Di nuovo per David Luiz Non è vero Di nuovo per David Luiz Griezmann Griezmann forse vede qualche movimento Ha visto il movimento di Alicic Si è posizionato bene Alicic deve fare un cross in mezzo Deve dare la possibilità Di vincere Di concludere questa partita Che ormai è già vinta Però i Bad Burger Vogliono di più Vogliono di più Di più Brienza la finta Posizionata sul sinistro 3 a 0 E qua veramente Guardiamo la prudezza di Brienza Ragazzi Guardate Doppio tocco Sposto Pam Rete Fantastica questa partita Fantastica Il nuovo acquisto Rakitic Falcao Ci ha fatto impazzire Brienza è entrato Segna Qualcosa di assurdo Vogliamo il 4 Vogliamo il 4 Fa niente Falcao Vediamo Deciderà Se fare il quarto gol o meno Perché sono sicuro Che lui Deciderà la partita E se dico lui Mamma mia Falcao Ragazzi Guardatelo Che bestia Che falco Passaggio per Fuori Questa ottima tecnica Del difensore Grande Intuito Si chiama bravura Anche Difensiva Del difensore Basta Io e le parole Ti rimporta 10 Loro 0 Mi sa che noi Dobbiamo salire assolutamente Quindi devo giocare un po' di più E Appena Appena salgo In divisione di lentante Che magari c'è gente più forte Ci divertiamo Poco a poco di più Eh Che dite Il nuovo passaggio Inutile Finisce la partita Andate su Fischia E finisce 3 a 0 Contro il Paris FC Non si sa che Le squadre sono Scarse Per i miei gusti Quindi tornerò Fra un po' di settimane E con un nuovo video Che avrò sicuramente Dei soldini Per fare un altro Opening pack Questo è stato Molto Molto buono Con l'acquisto Di Raki Tic E Subito Erviti Sale Bravissimo Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Io tornerò Fra un po' Lasciate un like Commentate E Spero vi Vi intrattengano Questi i miei video Se no Dite cosa posso migliorare Altri giochi che posso fare Ciao a tutti Un saluto Ciao a tutti